Un eroe Marvel? Gli eroi Marvel servono per bilanciare tutte le volte che siamo costretti ad accontentarci. Naturalmente, io penso che dovrebbe essere facilissimo essere giovani. Se non è facile essere giovani con tutto quello che abbiamo dentro, non capisco quando potrà accadere di vivere alla galle, quando ti faranno male le articolazioni. E non ci dovrebbe essere bisogno di chissà quali manuali di strategia, come quelli per la guerra. Che la guerra è un'arte e la vita invece è confusione. Vai a capire. È facile essere giovani se ti piace rigirarti i pollici. Rigirarsi i pollici è un buon animi per rimanere giovane. Se ti piace che ti scaldi il latte e ti mescolino il caffè, così ti illudi che essere giovane non costi nulla, che hai l'abbonamento facilitato per ogni cosa. Anche quando ti affidano la parte della persona matura è compreso l'abbonamento. Perché, anche se il copione prevede di misurarsi con le responsabilità, nessuno vuole veramente che tu te le assuma. Tu devi ascoltare solo l'elenco delle azioni responsabili. Ti fanno persino allenare nel campionato di ogni ora e se non le responsabilità. Ti fanno tenere in ordine la stanza, portare a spasso il cane, spendere una modica cifra settimanale. Ma non ti fanno mai giocare in serie A, niente responsabilità di alto livello. Non puoi gestire il patrimonio familiare, decidere l'organizzazione della giornata secondo un'altra logica, usare il baratto o coniare monete di cioccolato non puoi. Se per caso ti venisse voglia di vivere in un modo, in un mondo dove hai qualche briscio di responsabilità, devi vivere di notte, dentro un'altra nicchia temporale, o davanti ad un video seduto al bar, nascosto nel leallo studio il più lungo possibile, perché tutto il resto dello spazio è già occupato e non si sposta nessuno, che tanto tu sei giovane e un sacco di tempo per questo e per quello, tanto chi muore più. Ragionano tutti così, ti ripetono tutto il giorno diventa grande e non ti dicono mai ti vedo un po' più grande, perché non potrebbero più dirti diventa grande e finisce il loro divertimento, scompare il ruolo dell'adulto e le altre stronzate con quell'oro sentirsi i cavalieri e tu scudiero per sempre.